La nostra avventura continua. Siamo arrivati sulle Alpico Masche per cacciare cervi e cinghiali. Un ambiente davvero particolare che ci ha offerto tantissime possibilità di divertimento. Come compagnie di viaggio abbiamo scelto la Horizon Elite Grey calibro 300 e la Black Synth calibro 308. Sarà molto interessante vedere come si comporteranno sulla stessa tipologia di caccia. C'è un piccolo che mangia 350 metri sotto quella pittura grande, lo vedi? Si vede solo la schiena. Se viene fuori mi ha detto di sparare quello lì. Sì, è un po' alto. Siamo arrivati a questo punto dove c'è questa chiesetta, bellissima. Da quello che si vede è ancora buio però insomma con le pile si intravede qualcosa. Mi dicono che ci sarà un bel po' di salita ancora prima di arrivare nel punto un po' più pianeggiante. Ne facciamo un riposino di 5 minuti e poi ripartiamo. Sì, è un po' più pianeggiante. 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 Sì, è un po' più pianeggiante.